Ciao, sono Gabriele Gaulo, medaglia di bronzo alle Olimpiadi Giovanili. Partecipo anche io con la Federazione Italiana Taekwondo al progetto Scuola Aperta allo Sport, che non sia molto importante l'inserimento di vari sport all'interno dell'istituzione scolastica, in modo che i ragazzi possano confrontarsi e migliorarsi ogni giorno con nuove sfide. Scuola Aperta allo Sport, metti di gioco ed entri in palestra con i campioni.